Eccoci tornati al Red Hat Redaption Vuole essere pagato E vediamo se possiamo riferirlo 5 dollari lo farò O tu potresti riuscire un po' di Aaron per me Cosa hai bisogno, Doug? E' la mia figlia E' la mia figlia La palla le cose questa mattina e lasciò La Dumb Wentz è ancora nella stagione di freni aspettando per la stagione, coach Se tu potresti Convincertelo di prendermi la stagione Ah Pura C'è quella mi manda Noi 5 dollari musicisti Convincere la moglie A tornare da lui C'è Ho detto 5 dollari Ho convinto la moglie A tornare con lui Eccoci tornare Mi chiamo Se tu vieni E' un po' di Dio Se tu vuoi E' un po' di E' un po' di Mi chiedere Non ci sto capendo niente. Sì, vabbè. Addirittura, chiammi lo sceriffo. Non si riuscite a impiegare il crimine perché l'apinatore è scappato. Ma che cazzo? Oh mio Dio. Incapretta o minaccia rosa? Allora, incaprettiamolo. Allora. Incapretta. E porta rosa da suo marito. Che succede lì? 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 Che succede? Che succede lì? cerca di peter e peter è un amore ah noi non è peter ah pure cosa succede a lui? beh, cosa succede a tutti noi? credo che lo troverai a Rodfellow Rez pure trova peter a Rodfellow Rez dove minchia devo andare ora? un amo cavallino aspetta ricercato, vivo o morto? la banda è rivolta ad un'aggressione The Handgun Rock 260 dollari io 80 dollari morto accetto la taglia vediamo se lo posso prendere vivo e ricercato è stato visto ultima volta The Handgun Rock e quale il problema? ci andiamo ragazzi ricordatevi di iscrivervi al mio canale e mettere mi piace ai video perchè voglio arrivare a 1000 euro tanto per essere un po' più ehm ehm stimolati a fare altri video non me ne avrebbe un senso mi attivo alla monetizzazione è vero non l'ho dimenticato ho dimenticato la resistenza del mio cavallino ho restato fu l'argate come te trovare mai vado a fare altri video vado a Field c'è che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è il cattore c'è che cercherò come prima vado a dare vado a dare minchia spetta rosa cattura lui gli altri mi sparano adoro marco sapevo io che non era una bella mossa mio dio ok ok merda ok mi sono arrivato tolos oh no ho il tempo di saccheggiare no ma ma dove Non è vero, non è vero, non è vero. Ora, va bene... Ahahouam... Ovidei manda una definiera! .. .. .. Oh no, oh no... Che cosa sta facendo ora? Oh mio dio! Mi Stai facendo con una... Mi Coyote... Ma ecco lo vedo sulla punta Andiamo a corrì Corri, 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 corri Corri, 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 corri Lido giù Si è figo c'è Ok Riga del loco Ora è lì su Che sta scherzando? Cazzaro L'ho quasi raggiunto E' diventato preda dei coyote L'ho preso L'ho preso L'ho preso Dopo lo sbalazzare mi dico Mh Mh andate via stronzi che quella è fredda dei coiata magnifico sto correndo io a pressa a lui non posso andare sull'acqua se nooo ci rimango se come se ci sputo dove minchia si è andata a finire è sempre lì oh mio dio forza 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 se quello è a piedi lo posso raggiungere col cavallino sperando che non sia lontana però non mi faccia fare una missione fallita no ma tu per forza di qua devi girare si è grande andiamo più veloce che gli spade dai guarda che strada che mi ha fatto fare oh e iolo pizzo di merda oh sta vicino ai ricercati a tiralo su che è che in fase libera ok sto qua io sto qua dai ti ho ricercato su un cavallo per trasportarlo ma va metti la vittima sul cavallo chi è che mi spara minchia aiuto che cazzo ci vado qua ok oddio dove sei perchè costa questa mina automatica adesso perchè costa questa mina automatica adesso ok non voglio disaccaggiarlo ho perso troppo tempo mazza che strada oh mannaggia la puttana troia e mi stanno pure inseguendo ahhh ahhh no no mio tio ahhh ahhh ahhhh ahhhh ahhh ahhh ahhhh ahhhh Chiudere! non ce ne stanno più di quei eh, appunto, poi lo trovo quanto cazzo è distante ancora? Ah, sono arrivato ah, no, quasi è arrivato ah con un bel verde potevo ucciderlo subito ecco qua dice che è ambientato nel 1911 ma perchè c'era ancora questa negli anni 10 non lo saprò mai ho stato consegnato la giustizia 160 dollari grazie, sceriff e cercati i consegnati vivi più uno l'onore più venti la clemenza paga cercato vivo o morto ahhh che vuole che vuole che vuole che vuole che a pigliare sto cavallo, dai eh, vaffanculo però, dai che palle che due coglioni però